Punta Falconara Punta Falconara rappresenta l'estremo sperone di roccia sud-occidentale dell'isola Gallinara. L'immersione è anche l'occasione per andare a visitare la statua marina del Cristo Redentore, posizionata nella baia il 29 settembre 1998. L'esplorazione subacquea ha inizio proprio ai piedi della statua, per poi dirigersi a Ponente e raggiungere la parte sommersa della punta. Il fondale roccioso scende compatto in profondità, formando ampi gradoni su cui stazionano immobili ed in agguato grossi scorfani rossi. Caratterizzante è la presenza di alcune grotte subacquee, non particolarmente ampie, ma sufficienti per osservare piccoli crostacei che vivono nella semi-oscurità. Il rientro può avvenire risalendo in superficie e seguendo la parete, oppure raggiungere nuovamente la statua e da lì tornare direttamente all'imbarcazione. inizio ne. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.